Ci apprestiamo a fare questa tavola rotonda, quindi vorrei invitare tutti i relatori previsti per la tavola rotonda ad accomodarsi qui in queste poltroncine rosse e così poi dopo una piccola introduzione avranno tutti modo di parlare e spero anche che riusciremo a fare un po' di dibattito perché le tematiche sono tante interessanti e vorremmo con questa tavola rotonda guardare un pochettino avanti, un pochettino oltre queste importanti sperimentazioni. Prego, accomodatevi. Intanto li vorrei davvero ringraziare tutti perché i relatori di questa tavola rotonda rappresentano importanti stakeholder del concetto di mobility as a service. Lasciamo accomodare. Siamo a posto. Siamo tutti sistemati, quindi possiamo anche cominciare. Vorrei riprendere, prima di lasciare la parola a tutti i relatori, qualche concetto che è stato già detto poco fa. Come TTS Italia abbiamo creduto fermamente sin dal 2014 nella creazione di questa piattaforma degli enti locali che in prima battuta sembrava essere un concetto un po' teorico perché abbiamo sempre pensato che il ruolo degli enti locali fosse fondamentale nell'attuazione di quello che è stato e che è il piano nazionale ITS ma in generale nel promuovere l'impiego delle tecnologie ITS per ottenere dei benefici sulla mobilità. E questo tema del MAS direi che lo dimostra soprattutto nel perimetro di questo progetto MAS for Italy dimostra veramente la concretezza di questo concetto. Quindi anche questo è per noi una grande soddisfazione il fatto di poter vedere qui, oggi e anche in futuro tanti enti locali che lavorano ciascuno nel proprio territorio ma che fanno rete per favorire lo sviluppo di un progetto nazionale. Quindi questo ci tenevo a ribadirlo. Passando a quello che è l'argomento specifico che vorremmo trattare in questa tavola rotonda è quello che accennavo prima. Abbiamo questa opportunità grande di fare queste sperimentazioni sono sperimentazioni quindi avranno anche lo scopo di dimostrare cosa si può fare ma magari anche di fare emergere delle criticità. Quindi io vorrei chiedere oggi pomeriggio ai miei graditissimi ospiti il loro punto di vista in qualità di rappresentanti appunto di diversi stakeholder del MAS rispetto a quello che può essere il futuro che ci consentirà di passare speriamo dalle sperimentazioni ad una fase di business. Passare ad una fase di business naturalmente vuol dire probabilmente rimuovere degli ostacoli creare delle condizioni abilitanti. Siamo tutti soprattutto i ministeri lavorando per questo e credo che progetti come Mass for Italy siano proprio anche finalizzati a questo e vuol dire anche un po' avventurarsi su un tema che è stato oggi più volte citato ma che dal mio punto di vista è ancora un sentiero nebbioso, lo vedo ancora un po' nebbioso cioè quello dei modelli di business che dovremo definire, capire quanto sono sostenibili per comprendere se davvero dalle sperimentazioni si potrà passare ad un business vero e proprio. Vorrei cominciare se me lo consentite dando la parola al mondo del trasporto pubblico locale abbiamo il presidente di Astra Andrea Gibelli che ringrazio perché abbiamo sempre tutti pensato che il trasporto pubblico locale costituisca veramente l'ossatura, il backbone, le fondamenta e i rinunciabili per poter costruire un sistema di mobility as a service. La parola da Andrea Gibelli. Grazie per introdurre questo tema che parte dal trasporto pubblico locale la necessità, e io ringrazio dell'invito, di provare a cambiare la definizione perché il trasporto pubblico locale se lo si guarda in rapporto a quello che saranno i modelli di mass nei prossimi anni deve anche cambiare definizione giuridica nel senso che il trasporto pubblico locale è sempre meno locale intendendolo come un sistema chiuso che non dialoga con altri attori quindi ben vengano queste iniziative di confronto perché quando si parla di mobilità oggi si tende a considerare anche culturalmente le norme, i modelli industriali lo prevedono la necessità solo di spostare il mezzo dal punto A al punto B. Ecco con i mass si è finalmente iniziata una stagione a cominciare a parlare in termini molto ma molto più ampi di mobilità dentro alla grande scommessa della digitalizzazione dei servizi ma io tenderei a concentrare l'attenzione di questa mia introduzione non esclusivamente ai servizi di mobilità in senso stretto noi abbiamo avuto un'esperienza in questi anni legata al Covid dove si è scoperto quanto pesa la mobilità come sistema paese perché abbiamo cambiato tutte le nostre abitudini e il Covid ha dimostrato che non torneremo più a una situazione pre-Covid come abitudini oggi il mondo del lavoro si sta digitalizzando con una velocità impensabile i webinar, lo smart working, la necessità di lavorare da remoto è una condizione che è diventata incomprimibile dal punto di vista della cultura del paese dell'Europa dei vari sistemi quindi anche la mobilità come fattore abilitante del nuovo concetto di sviluppo deve seguire questa curva dentro l'esperienza concreta delle imprese il mass risponde anche ad una delle condizioni di chi è intervenuto prima di me oggi quello che ci stiamo accorgendo è che sempre di più la gestione dei dati e la comunità europea stima in addirittura fino a 550 miliardi di euro il valore quindi per ritornare alla domanda come fattore di business che fino a qualche tempo fa non si conosceva nemmeno la dimensione della domanda e dell'offerta della volontà e dei criteri per cui ci si muoveva c'era le grandi categorie dei pendolari grosso modo contati come studenti e lavoratori oggi è molto più sfumata in alcune aree del paese addirittura si usa il termine trasporto pubblico locale per muovere persone che non sono legate alle attività produttive, al lavoro ma per altre ragioni e quindi conoscere meglio e performare la risposta alla domanda passa attraverso i mass e anche la sua declinazione MAC cioè per le comunità perché sempre di più dal punto di vista urbanistico se si vuole ridisegnare le città perché si parla sempre della necessità di togliere le macchine dalle città si parla di trasforire la cultura del trasporto collettivo però vanno create le condizioni culturali per fare questo perché spesso le due cose non si sposano nella dimensione diciamo della attività di limitazione legata al traffico, alle aree urbane ma bisogna secondo noi offrire alternative che cosa accade? Che se noi definiamo un modello tale per cui il trasporto locale e la gestione dei dati consentirà in futuro grazie alla tecnologia di fare servizi sempre più mirati al bisogno quindi una sorta di domanda e offerta ad intermittenza tenete conto che dal punto di vista normativo, amministrativo, contrattuale, sindacale siamo lontanissimi da questa condizione però l'esperienza sul campo non può più accettare che aree del paese come paese a vocazione, chiamiamola turistica abbiano un'oscillazione così ampia tra stagioni morbide che sono per le aree rivierasche o per le grandi aree di attività turistica sovradimensionato servizio e nelle aree, per dire nei momenti stagionali di punta avere un'offerta sottodimensionata Allora, noi Mass for Italy abbiamo cercato e stiamo cercando con un parziale successo per il momento ma è un processo, siamo appena all'inizio di questo processo di facilitare la sperimentazione di diversi modelli di business che si attagliano diversi realtà locali a diverse realtà nazionali, a diversi ambienti e come lo facciamo? Innanzitutto ribadendo che si tratta non di un finanziamento a progetti sperimentali separati ma si tratta di un progetto nazionale che mira la sperimentazione dei Mass per l'Italia articolato in diverse realtà locali notare che sono molto ambiziose queste cose perché saranno 3 più 3 più 7 territori quindi arriviamo a coprire se tutto andrà bene molti diversi esempi di realtà italiane dalle città metropolitane che sono adesso a territori più vasti con vocazione anche molto diversa fra di loro turistica, business oriented, transfrontalieri quello che volete mettere in testa noi intendiamo approfondire questa sperimentazione a diversi livelli e con diversi strumenti innanzitutto in collaborazione stretta con le città come è stato ripetuto oggi cioè continueremo abbiamo gruppi di lavoro congiunti perché ripeto si tratta di un progetto unico a caratura nazionale articolato su realtà locali che deve tener conto di tutte le realtà locali e degli esempi non solo delle necessità ma di quanto questi hanno già fatto e quando parlate di regole oggi ho sentito le preoccupazioni riguardo a punti di attenzione beh certo sono estremamente importanti alcuni sono stati citati altri no visto che qui ho di fianco un rappresentante del trasporto pubblico cito un punto di attenzione anche mio se volete aggiunto a quelli che ho sentito se un operatore di trasporto pubblico che è concessionario di un servizio di pubblica utilità si mette a realizzare i servizi diventa operatore mass allora deve stare attento a non mischiare le due attività quindi minimo separazione contabile o meglio ancora una volta che il servizio mass che è l'operatore mass funzioni separazione aziendale in modo che sia chiaro da dove arrivano e dove vanno a finire i soldi per quello ma è uno solo dei tanti punti che aggiungo a quelli che sono stati citati ricordo che poi nelle normative per fortuna nostra esiste l'autorità di regolazione del trasporto non siamo così vincolati alle strutture private nessun privato può non essere neutro nella scelta delle offerte che da quando fa da intermediario su questo ci sono già pronunce dell'autorità di regolazione dei trasporti ma in aggiunta a questo noi intendiamo utilizzare la community di tutti quelli che parteciperanno alle sperimentazioni che avete visto sono tanti perché se avete seguito i numeri di Milano, Roma e Napoli ma sono i numeri delle prime tre città avremo decine di operatori di trasporto avremo diversi operatori mass abbiamo tutte le autorità locali eccetera è una vasta community se poi aggiungete le altre tre città metropolitane e i sette territori che sanno venire abbiamo un campione estremamente rappresentativo beh, noi intendiamo verificare all'interno di questa community alcune regole di partecipazione lo facciamo cosa? siccome lo strumento obbligatorio è questo DS and SRF a cui tutti devono aderire sia per dare i dati perché lì li devono dare quelli che partecipano alla sperimentazione tutti nei formati che sono i formati del regolamento europeo avete sentito stamattina parlare di Netex e Ciri a livello di dettaglio bene lì mettiamo le regole di accredito al DS and SRF che sono regole che dobbiamo che abbiamo già sono già indicate nelle loro bozze nella loro aspetto primario nelle linee di indirizzo che sono pubblicate sul sito del Dipartimento Trasformazione Digitale che sono quindi note a tutti ma che insieme alle città insieme a tutti i coinvolti andremo ad approfondire queste potrebbero anche servire per ipotizzare dopo averle valutate nel funzionamento reale della sperimentazione l'eventuale estensione a diventare normative di carattere pubblico ma a fianco di questo gruppo di questa community di chi partecipa a queste sperimentazioni come già stato detto stamattina e lo ripeto abbiamo un tavolo partenariale che già ha contribuito in modo sostanziale alla definizione dei requisiti su cui si sta progettando il DSRF e queste sperimentazioni il tavolo partenariale vede per esempio Anci che è stato un attore fondamentale insieme a diversissime associazioni e altre quindi abbiamo avuto il contributo di tutti ma questo tavolo partenariale adesso verrà chiamato a partire dalle prossime settimane a riprendere il suo lavoro guardare alle sperimentazioni aiutare a mettere insieme queste regole delle community e prefigurare dopo la valutazione il futuro di queste normative spero di aver indicato questo processo ripeto siamo solo agli inizi auguri a tutti buon lavoro grazie grazie molte Vito ti avrei proprio chiesto se tu non l'avessi detto notizie del tavolo del partenariato per comprendere se è previsto che continui a lavorare come ci hai detto durante lo svolgimento del progetto Mas4Italy e visto che hai anche citato il ruolo di Anci importante nel tavolo del partenariato se siamo pronti col collegamento tecnico potrei dare la parola a Giada Maio che mi dicono essere collegata da remoto che per Anci è responsabile del settore energia e mobilità prego Giada Maio a lei la parola buonasera mi sentite sì la sentiamo buonasera buonasera perfetto grazie di avermi consentito di partecipare da remoto è un momento un po' delicato questo per tutti e allora io sarò molto sintetica visto che insomma non essere presente non facilita neanche ecco appieno la comunicazione intanto ringrazio TTS Italia per questa iniziativa e tutti gli stakeholder seduti credo che questa associazione che ospita questo evento abbia fatto tanto culturalmente a favore del MAS un anno fa voi uscivate con le linee guida per il MAS le ricordo bene e prefiguravate già alcuni temi di cui si dibatteva da tempo anche sulla scorta delle migliori esperienze europee lo scenario tra l'altro in cui erano uscite quelle linee guida non è credo migliorato oggi lo scenario in contesto socio-economico tendenzialmente è peggiorato noi stiamo vivendo oggi gli effetti direi deflagranti del covid a cui si aggiunge una crisi un po' più profonda energetica prima di tutto tant'è che innanzitutto condivido con la vostra visione cioè che il trasporto pubblico locale è la spina dorsale della mobilità urbana anche probabilmente extraurbana e che abbiamo tutti a partire dai comuni che sono direttamente coinvolti nella maggior parte dei casi nella gestione prima di tutto nella pianificazione del servizio abbiamo tutti la responsabilità di traguardarlo in modelli più efficienti in questo momento direi di metterlo in sicurezza il presidente di Astra che poc'anzi interveniva ha già preannunciato alcuni dei temi che sono ovviamente oggetto del dibattito a cui io ne aggiungo degli altri cioè oggi a fronte di 6,2 miliardi circa di risorse del PNRR sulla mobilità questo progetto è un progetto ovviamente di risorse esigue ma fortemente innovativo probabilmente il più innovativo che ha la reale sfida di essere connesso a tutte le altre misure del PNRR mobilità probabilmente anche a quelle sulla digitalizzazione ma innanzitutto su le misure che conosciamo già che gestisce il NIMS e questo che significa significa che oggi la vera sfida non è la sperimentazione mass oggetto del progetto questo oggi fatemelo dire ma è la rapidità e la prontezza con cui molto coraggiosamente dobbiamo in coerenza con il quadro normativo il quadro economico e anche la risposta dei cittadini mettere uno dopo l'altro a posto tutti i tasselli che poi favoriscono la sostenibilità del tempo nel tempo dei servizi massi innanzitutto primo la sperimentazione oggi questo fatemelo dire perché Anci insomma si è stato ed è un attore importante ma è un attore del tavolo partenariale di fatto c'è c'è stato un tentativo di collaborazione ma non ci siamo riusciti probabilmente appieno noi oggi abbiamo preso pubblicamente della vittoria delle prime tre città delle seconde tre città della sperimentazione e siamo contenti vi ringraziamo ma abbiamo detto da tanto tempo che oggi appunto come dicevo prima la sfida vera è di portare tutti quanti i soggetti già pronti pubblici parlo dei comuni questo è il mio ruolo ad un livello tale da favorire l'integrazione nei sistemi massi perché oggi tutte le principali città medio-grandi si stanno in qualche modo adoperando per attuare il massi perché è parte dell'innovazione della mobilità non abbiamo tempo di seguire l'esito di una sperimentazione di adottare dopo dei modelli delle infrastrutture o dei servizi oggi si giocano tante altre partite cioè la partita dell'infrastruttura e dell'acquisto degli autobus che è chiaramente fortemente legato all'infrastruttura che oggi necessita di alcuni requisiti anche il montaggio per chi andrà a gara anche se per fortuna diciamo su questo piano normativo su cui non voglio entrare c'è un'evoluzione adesso sembra uno spiraglio positivo ecco per il quadro su cui abbiamo lavorato anche nell'ambito della commissione Mattarella è il TPL stesso ad essere oggetto di un'innovazione ovviamente e abbiamo colto con favore quell'apertura nel DL trasporti che va accompagnata con riforme ben più profonde il professor Mauro lo sanno abbiamo parlato pochi giorni fa però non sono chiacchiere cioè lavorare sui dati su una riforma che su una norma che obblighi alla condivisione dei dati perché la promozione della condivisione non funziona uno due sicuramente lavorare concretamente da adesso sulla bigliettazione elettronica perché di fatto l'Italia è un paese che è un fanalino di coda sulla bigliettazione elettronica e se non abbiamo un'integrazione sulla bigliettazione tutto questo non può essere declinato in operatività e parlo di contesti molto sviluppati parlo dell'integrazione ad esempio tra Brescia e Milano che hanno sistemi di bigliettazione ma non sono interoperabili per una appunto una diversa tipologia di sistema o di come dire di datazione dei sistemi piuttosto che di temi ben più importanti che oggi stanno emergendo che riguardano in realtà i costi di gestione la manutenzione quindi parlare di come sosteniamo il mass alla fine della sperimentazione è oggi veramente sfidante perché chiaramente il tema principale più complicato a quanto pare non è la realizzazione di applicazioni tecnologiche piuttosto che di una piattaforma tecnologica poi ovviamente su questo noi saremmo e tra un po' lo annunciava anche il professor Mauro ma ne abbiamo parlato anche nel corso di riunioni tecniche lo condivideremo però ecco quello è un tema che ci preoccupa molto così come ci preoccupano molto queste riforme normative perché uno dei principali aspetti che a nostro avviso non è adeguatamente attenzionato è la domanda cioè il mass vede al centro il soggetto che ha bisogno di spostarsi che sia merce o che sia persona qui stiamo pensando ovviamente alle persone però la persona il cittadino in Italia non ha questa propensione come si diceva poc'anzi allo spostamento in modalità collettiva e pubblica e oltre al tasso altissimo di automobili privati che abbiamo in Italia è proprio costruire il valore del servizio pubblico e collettivo intorno alla persona forse è più pubblico che collettivo qui l'esperienza stra-innovativa dello sharing in particolare dei monopattini ci aiuta però dov'è questa penetrazione c'è una spaccatura in Italia certo che c'è è molto locale senza andare a parlare chiaramente di dare un volto o delle regole al business chiaramente dello sharing perché non sto parlando di questo ma creare potenziare la filiera del valore per capire come trarre come ripagare il servizio mass in questo momento certo non si può far carico l'azienda di trasporto pubblico locale del mass piuttosto che altri soggetti che stanno in questo momento credendo e investendo in questa sfida è ovvio che il tema è il tema principale il modello di business ma il quadro in cui caliamo il mass oggi è un quadro estremamente preoccupante in cui non sappiamo come mantenere i servizi e le infrastrutture soprattutto le infrastrutture di trasporto pubblico quindi o come gestirle in vista appunto in ragione dell'emergenza energetica e ci sono alcuni fattori che sono grandi assenti cioè non stiamo parlando come politica integrata di mobilità a sufficienza di mobility management ne stiamo parlando ma ovviamente sono misure spot ancora al nostro avviso non stiamo parlando di sosta ci sono città che ci stanno lavorando tanto sui centri di mobilità e sui hub già pensati come connessioni e Bologna è una di queste ma non c'è una politica nazionale su questo oltre a non esserci risorse quindi questi sono i temi che volevo condividere ho fatto un po' il bastian contrario vi ringrazio tutti ascolto volentieri grazie 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 dottoressa credo che abbia sollevato tutta una serie di spunti che potremmo sicuramente riprendere per il dibattito vanno proprio nel cuore di tanti problemi ma ha anche citato nel suo intervento alcuni stakeholder che abbiamo la fortuna di avere qui presenti ai quali passerei subito la parola perché così creiamo un filo logico fra i vari interventi ha parlato della sosta ha parlato dello sharing abbiamo qui il presidente di IPARC e anche il presidente di associaring quindi vorrei dare la parola al presidente di IPARC Mosconi grazie Rossella intanto ti ringrazio per questo invito perché l'associazione voglio dire che rappresento ha volentieri partecipato a questo tavolo anche perché come diceva la dottoressa prima il nostro mondo è un po' un mondo collaterale rispetto al mondo dei mass è chiaro che se devo rappresentare la situazione raccolgo le parole del professor Mauro e dico il 70% degli spostamenti in Italia sono fatti con l'auto privata il 30% col pubblico poi ci sono ovviamente le realtà virtuose come le città metropolitane dove le reti costituiscono un elemento importante ma c'è un altro pezzo da aggiungere che dice in Europa il 60% delle auto stanno sottoterra e il 40% stanno in strada da noi il rapporto è esattamente il contrario quindi tutti questi elementi diventano un elemento fondamentale se ragioniamo in una logica in una logica di integrazione di mass io credo che anzi intanto ritengo che il fatto che il paese il nostro paese è fatto da realtà in cui appunto una quota importante di spostamenti è fatta col mezzo privato evidentemente l'auto l'auto privata rappresenta il primo e ultimo punto e quindi il primo e ultimo pezzo del mass perché evidentemente la sosta e il parcheggio in quelle realtà ed escludo evidentemente le realtà metropolitane io ho la fortuna di essere milanese quindi ho la fortuna di godere di una realtà un po' diversa dal resto del paese ma evidentemente c'è tutta una tematica legata agli spostamenti col mezzo privato che devono trovare nella sosta un loro punto di approdo e quindi ben venga il fatto che nell'ambito del mass sia considerato il mondo della sosta dei parcheggi dico un'altra cosa dico che abbiamo in questo momento per quanto riguarda il nostro settore abbiamo la fortuna di avere un impianto normativo che ci consente attraverso il fatto che sia stato approvato l'articolo 12 bis del codice introduce questo concetto del digitale quindi la digitalizzazione ben venga proprio perché attraverso questo strumento riusciamo a essere parte integrante del mass il fatto che oggi il codice preveda la possibilità di digitalizzare tutte quelle che sono tutto quello che è l'impianto della sosta evidentemente ci mette nella condizione e mette soprattutto nella condizione le città e tutti gli operatori di avere a disposizione una serie di dati e di informazioni che poi calate nella realtà del mass diventano un elemento fondamentale un elemento fondamentale per una logica di sostenibilità non a caso il fatto che oggi addirittura tra virgolette i navigatori arriveranno i navigatori delle auto arriveranno a dire arrivano a dire quali sono le condizioni del traffico e ti guidano in una situazione di sosta o di parcheggio evidentemente tutto questo contribuisce a una riduzione della CO2 e di tutte quelle che sono le conseguenze di questa cosa parlavamo prima parlava prima il professor Mauro proprio delle piattaforme ebbene anche qua nel mondo della sosta e guardo tutto quello che è la realtà europea perché poi alla fine guardiamo modelli che sono già un po' più avanti rispetto a noi la realtà europea già presenta per tutto il settore una piattaforma che è Datex che è Datex2 che addirittura è in questo momento Norma ISO quindi di fatto è un'applicazione che diventa un punto fondamentale per noi ed evidentemente tutte queste piattaforme che vanno a dialogare con quelle che sono le piattaforme del MAS che devono essere interoperabili tra loro evidentemente ci mettono nella condizione di essere aperti di fronte al nostro progetto credo che questo e sono molto orgoglioso di questa cosa che IPARC faccia parte di questo tavolo partenariale assolutamente è un elemento fondamentale il fatto di dialogare e di relazionare tra associazioni tra stakeholder perché credo che sia un progetto ambizioso ed è un progetto sicuramente dove la sosta e i parcheggi vogliono giocare un ruolo importante ti ringrazio e quindi passerei la parola a Sherry Mobility col presidente di Associary Marco Tanzilli Matteo Tanzilli chiedo scusa grazie presidente dell'invito e allora oggi è stato molto interessante ascoltare insomma tutto l'ecosistema di mobilità che si sta affacciando insieme diciamo si stanno cercando tutte queste nuove punti di caduta e per quanto riguarda questo settore il nostro settore dello sharing è un settore vengo due giorni fa c'è stato un convegno di ACI che proprio sullo sharing mobility nel quale sono stati riportati alcuni dati con questa crescita per esempio che c'è stata nell'ultimo anno del 97% per il nostro settore è un settore nel quale ricordiamo in Italia nelle abitudini delle persone ovviamente sono cambiate e qui mi raggancio anche a quello che diceva prima il presidente di Astra Gibelli le abitudini delle persone stanno cambiando i giovani di oggi non acquistano più beni di proprietà tanto più auto private e quindi ovviamente bisogna già andare a intercettare quella domanda che nel brevissimo tempo andrà cambiando sempre più velocemente in Italia non ci dimentichiamo che il 60% degli spostamenti avviene sotto che avviene sotto i 5 km e quindi l'ecosistema dello sharing mobility diciamo è integrativo nel trasporto pubblico locale va a rispondere a questa offerta diciamo a questa domanda che c'è all'interno delle città e questo cambio di abitudini che ha un nome si chiama no ownership quindi questi giovani d'oggi non acquistano più beni di proprietà e quindi preferiscono il pay per use il pagamento al consumo rispetto ovviamente a costi fissi che può avere diciamo il possesso di un bene di proprietà appunto il settore della sharing mobility per quanto riguarda ovviamente queste tematiche mass con il professor Mauro abbiamo fatto un paio di incontri anche per questo settore che diciamo è un settore nuovo cioè fino a pochi anni fa lo sharing mobility non aveva questo soprattutto con l'avvento della micromobilità non aveva questa diciamo incremento e presenza all'interno del nostro paese e quindi tutto a livello di normativa a livello di policy sono tutte diciamo una serie di attività nuove che piano piano insieme ovviamente alla parte pubblica devono essere e stanno ancora in fase di sviluppo ci sono alcuni temi che sono ancora aperti come per esempio tutto il tema di responsabilità che sono in capo oggi a noi operatori e che ovviamente va capito come fa a ricadere all'interno di una piattaforma terza ovviamente tutta una serie di tematiche dal pagamento all'assicurazione sono tutte tematiche tecniche sicuramente con diciamo all'interno di questi nuovi tavoli e queste riunioni che ci saranno sicuramente si troveranno delle soluzioni la parte dello standard del dato e della condivisione dei dati è in via di definizione quindi insomma una cosa molto interessante ma ci darei a diciamo a trovare un particolare diciamo a fare un focus particolare sulla parte delle tariffe si è parlato prima lo diceva l'architetto Sevino come Amat loro hanno fatto una mappatura delle varie piattaforme mass che ci sono oggi in Europa in particolare diciamo c'è una piattaforma mass nel nord Europa che si chiama WIM che ha già nella città di Helsinki che ha già diciamo inserito all'interno della propria diciamo nella propria offerta un abbonamento questo abbonamento prevede qua mi ero segnato il prezzo a 65 euro al mese e 35 euro al mese per gli studenti una serie di attività il trasporto pubblico locale diciamo aperto e la possibilità di avere ovviamente un minutaggio per vari servizi di mobilità inclusi io penso che diciamo la visione del mass oggi in Italia magari stiamo vedendo stiamo iniziando un po' adesso la parte di polisi e di regolamentazione ma penso che la direzione sia quella della facilità all'interno di un unico abbonamento di avere diverse tipologie di mobilità all'interno di un unico biglietto di un unico abbonamento ovviamente e qua mi reggancio a quello che diceva già da Maio di Anci oggi sono stati fatti ingenti investimenti per le piattaforme quindi tutta la parte strutturale ma bisognerà sicuramente in un secondo step di investire anche nella parte di manutenzione manutenzione intesa come politica di incentivo per questi tipi di abbonamenti perché gli operatori si chiede sempre di più a noi operatori di poter diciamo fare investimenti di fare diciamo limitazioni di servizio o richieste di implementazione di servizio magari in aree periferiche della città per rendere sempre più democratico il servizio sì però ovviamente non bisogna mai perdere diciamo io ovviamente rappresento il settore privato e quindi ovviamente noi non siamo sharing mobility onlus e ovviamente alla fine noi dobbiamo sempre qui mi riaggancio a quello che diceva prima la presidente di TTS sulla sostenibilità dei modelli di business quindi il pubblico sì bisogna trovare il giusto punto di caduta tra l'interesse pubblico e diciamo quello che possono fare gli operatori fino a dove gli operatori si possono si possono diciamo allargare fino a dove possono arrivare quindi la sostenibilità economica è fondamentale per per noi in quanto noi ricordiamo non siamo trasporto pubblico locale non riceviamo incentivi compensazioni e quindi tutto quello che gli operatori sharing ad oggi hanno diciamo è un'azienda privata l'esempio è quello dell'IVA della fiscalità per esempio oggi lo sharing mobility alla tassazione del 22% e come associazione stiamo portando avanti l'istanza a modificare l'aliquota IVA al 10% come già avviene per il TPL perché ci sembra insomma per rendere più sostenibile il nostro settore ci sembra diciamo una una possibilità fattibile e lo abbiamo lo abbiamo proposto e quindi per quanto riguarda diciamo il nostro settore siamo molto aperti a motivi di confronto per quanto riguarda l'integrazione dei nostri servizi all'interno di piattaforme mass ma diciamo stiamo osservando e stiamo capendo come poter rendere anche sostenibile diciamo questa integrazione sicuramente e qua vado alla conclusione l'inserimento e l'investimento dei mobility manager deve essere diciamo una parte integrante all'interno delle piattaforme mass fondamentale in quanto oggi i mobility manager come dicevano prima sempre l'architetto Sevino dai 40-50 che pochi anni fa c'erano oggi diciamo quadruplicata quintuplicata il numero di mobility manager che devono essere utilizzati sia per l'azienda sia per ovviamente le università e gli istituti scolastici quindi noi operatori sì siamo in concludo siamo molto interessati sicuramente supporteremo l'integrazione all'interno delle piattaforme mass del nostro paese ma stiamo diciamo guardando e stiamo capendo anche la sostenibilità finanziaria per poter ovviamente non rimetterci per quanto riguarda l'integrazione di questi servizi grazie grazie a te grazie molte credo che anche il suo intervento ci offra parecchi spunti di riflessione e di discussione sicuramente la sharing mobility sappiamo tutti è un ingrediente fondamentale per la mobilità sostenibile e quindi proprio per questo in qualità di presidente di Roma Servizi per la Mobilità ma anche come grande esperta di mobilità sostenibile passerei la parola ad Anna Donati grazie grazie a TTS Italia per aver scelto Roma per questo evento è stato naturalmente un piacere collaborare e ospitare questo evento e devo dire che anche la giornata di oggi come sarà quella di domani diciamo il mass questo sconosciuto pian piano comincia a svelare cominciamo a conoscerlo naturalmente quando cominci a conoscere qualcuno o qualcuna vedi anche la complessità i problemi e tutte le questioni che dovremo insieme naturalmente affrontare per arrivare ad offrire ai cittadini e alle cittadine dei servizi intermodali multimodali adesso qui poi il dibattito è molto è molto simpatico io colgo l'occasione per ho fatto un ragionamento in vista di questo di questa tala rotonda e dopo quello anche che ho ascoltato su quali sono i limiti attuali del mass e quelle che io vedo naturalmente e quali sono delle opportunità straordinarie che questo concetto per ora è ancora un po' un concetto potrebbe indurci primo mi sembra un po' l'ha già detto in diversi ma in particolare già da maio dietro tutto questo ci vogliono dei servizi reali naturalmente è fondamentale che siano facili da capire prenotare pagare usare però il fatto che dietro ci siano dei servizi reali parlo di trasporto collettivo di sharing di spazi di sosta se vogliamo parlare al mondo dell'auto per favorire l'intermodalità questo è un punto un po' critico perché è vero che il covid ci ha insegnato a lavorare in modo agile anche da remoto riducendo la mobilità però non dimentichiamo che la ripresa ci ha fatto vedere che la crisi del trapposto pubblico persiste e l'automobile sta andando fortissimo proprio in nome di quell'idea di tra virgolette sicurezza che si è naturalmente molto alimentata comprensibilmente grazie proprio al covid quindi questo periodo ci ha dato delle grandi opportunità ma ci sta dando anche dei grandi rischi e questo devo dire il PNR le città siamo tutti impegnati a rimettere in strada cantieri tram bus bus elettrici nuove linee metropolitane Roma ha un piano veramente ingente ma tutto questo è fondamentale allo stesso modo il tema della sharing qui è stato già affrontato è altrettanto importante è un pezzo io aggiungo un tema che forse giustamente in un convegno non si può affrontare tutto ma dentro le città stiamo su cui stiamo lavorando gli utenti noi perché siamo poi noi preferiscono sempre la monomodalità sia adesso auto o TPL o quel che è perché scambiare in questo paese è molto complicato non solo per questioni tariffarie anche per questioni di dove parcheggio scusate in monopattino l'auto la bici in modo sicuro perché c'è anche un tema di furto e sicurezza intorno a tutto questo come attraverso se Matteo mi permette una critica alle sue bellissime slide invece della mongolfiera metterei il pedone perché molte di questi servizi sto scherzando Matteo naturalmente però ho visto che il pedone qui però invece noi siamo tutti pedoni perché a un certo punto da qualcosa scendiamo è un pezzettino anche se non vuoi te lo fai a piedi e il tema dei percorsi pedonali è un tema di adduzione fondamentale di connessione dove noi siamo impreparati noi sistema Italia Roma sicuramente cioè quindi il concetto dello spazio pubblico da ridesegnare in funzione della multimodalità e dell'intermodalità così come degli spazi di sosta è essenziale quindi chiudo subito su questa parte critica secondo è stato detto il tema tariffe ha ragione Tanzili associaring cioè bisogna abbassare l'IVA bisogna fare però in generale una riforma del TPL che ammetta gli incentivi anche alla sharing mobility e questo poi come nell'ambito di un contratto di servizio poi ogni realtà decide a chi attribuire anche per funzioni diverse tra le diverse multimodalità credo anche che vadano chieste mi spiace più risorse per il trasporto collettivo e la sharing mobility perché se pensiamo di dare incentivi alla sharing mobility semplicemente divorando quel poco che viene dato io dico poco perché 5 miliardi che vengono dati complessivamente al trasporto collettivo incluso tra l'Italia o le società regionali rispetto a quello che dà la Germania o la Francia come contratti di servizio noi siamo sotto meno 30-40% quindi non c'è solo un tema di infrastrutture non c'è solo un tema di treni di veicoli ma c'è anche un tema di incentivi quindi è verissimo perché altrimenti io quello che non capisco in tutto questo nostro dibattito o capisco benissimo è chi paga la scontistica perché il cittadino io l'ho vissuto a Napoli dice Gaetano Ratto con unico Napoli il cittadino se tu gli dai la possibilità di utilizzare con lo stesso biglietto 4 mezzi lo fa e dopodiché quando tu vai a ripartire l'incasso tra quattro società il sistema non sta in piedi infatti l'assessore Cascetta sosteneva il sistema di unico Campania all'epoca con delle risorse pubbliche perché altrimenti erano le stesse società pubbliche o private che fossero ad andare in crisi terzo tema sempre critico il digital divide voi direte ma ormai non c'è più no c'è è ancora diffuso aree interne periferie zone connesse anche la complessità qui forse dobbiamo fare veramente usare le scuole gli anziani la formazione dei giochi insomma bisogna inventarsi qualcosa per fare in modo che i cittadini imparino certamente il Covid ci ha fatto fare un balzo in avanti noi stessi usare tutte le piattaforme possibili immaginabili per collegarsi da remoto che prima ti sembravano improbabili adesso è assolutamente normale quindi si può fare bisogna anche però che chi pensa all'interfaccia col cliente con l'utente forse anche un problema di regolazione cioè immagini delle cose vi prego veramente facili perché è vero che tutti siamo diventati più bravi però tutto è diventato sempre più complesso e pc col cellulare mentre clicchi e la password da cambiare nelle due ore e maiuscolo cioè adesso non voglio banalizzare però non tutti stanno dietro a tutta questa evoluzione se noi basiamo un sistema e dell'offerta di trasporti su questo e chi non ce l'ha è fuori questo diventa un problema molto significativo quindi insomma il tema della privacy insomma queste cose affrontiamole in un modo semplice chiudo dico solo i titoli ti prometto Rossella sulle grandi opportunità voi avete ascoltato questa mattina l'assessore Patanè di Roma annunciare un piano di azione per Roma non solo lui ha parlato soprattutto della parte regolazione ZTL fascia verde varchi telematici noi stessi come Roma Servizi stiamo appaltando decine di varchi da mettere in tutta la città perché tutte queste cose funzionano se c'è un sistema e dei deterrenti di controllo stabili quindi sono cose vere che si stanno facendo ritengo che il sistema MAS anche nel suo modello più semplice la possibilità di parlare col cittadino quello dei cluster specifico è molto importante perché ad esempio un problema che abbiamo a Roma è che per lanciare il messaggio generale 10 sono contenti 50 non capiscono e altri 40 sono nettamente contrari perché lanci lo stesso messaggio non puoi che fare così nella comunicazione quando le esigenze sono molto diverse il 26% dei cittadini romani abita oltre il GRA e ha dei servizi di trasporto collettivo userei la parola rarefatti per essere gentile è chiaro che a quelli lì che arriva la fascia verde con la sua auto Euro 3 non può più andare oltre una certa fascia che è necessario perché altrimenti la missione CO2 riduzione qualità dell'aria non ci stiamo però significa dialogare con loro immaginare dove si possono fermare o come aiutarli anche a cambiare il veicolo fare degli spazi di sosta potenziare le reti di trasporto collettivo altrimenti tutta la tutta la cosa poi rischia di non stare insieme in tutto questo il servizio che ti consente di dialogare direttamente col cittadino con un'offerta personalizzata a seconda di dove sta che servizi ha che servizi potenzialmente potrebbe offrire è molto importante è uno strumento molto utile secondo io mi auguro ma l'abbiamo già visto oggi il fatto che siano qui ai park ma anche la relazione di plus service cioè qui dobbiamo parlare al mondo dell'auto perché se noi facciamo delle app e dei servizi per chi già oggi io uso TPL sharing non andiamo scusatemi quel 30% non cambia cioè noi dobbiamo riuscire a intercettare con il linguaggio giusto con l'offerta giusta con la mentalità probabilmente anche giusta parlando a un mondo dell'auto che adesso è un mondo tutto suo e che ci vede dire con diffidenza è poco perché non vede le alternative perché sta seduto sul suo divano mentre gira perché l'auto è un bel divano in cui si sta molto più comodi di un autobus insomma io credo che il progetto Mass ha senso se ha quella capacità quindi anche noi lavoreremo come Roma Servizi Mobilità per la piattaforma unica aperta interoperabile con tutte le regole scambio dati eccetera eccetera ma credo sia importante che oltre ad Attac che è fondamentale che sia uno dei nostri protagonisti Mass Operator ce ne siano altri che parlano ad altri mondi e sono in grado di intercettare un cambiamento di comportamento e di offerta perché altrimenti se ci fossilizziamo su quelli attuali credo non abbiamo fatto un buon servizio chiudo dicendo che sono anche convinta che io sono convinta che adesso io personalmente non vedo tutte le potenzialità del Mass che sono molto di più di quelle che noi stiamo discutendo prima è stata citata il tema dell'auto a guida autonoma c'è un tema secondo me ad esempio del noleggio facile che andrebbe steso a qualsiasi mezzo ma facile facile adesso la sharing mobility è facile ma se io devo affittare un'auto tre giorni quattro giorni un mese è già molto più complicato cioè il sistema di offerta deve forse cioè veramente anch'io sogno ogni tanto un'auto che mi venga a prendere senza guidatore senza niente ce l'avrai dice Vito mi ha promesso c'è la broma per cui ce la no non sono più giovane come sai bene purtroppo no no scherzo naturalmente no quindi non cioè quello che ci esorto perché io faccio parte naturalmente di questa community è evidente non fossilizziamo su quello che c'è perché credo ci siano delle potenzialità di immaginare la mobilità come servizio che negli anni 90 naturalmente ai convegni la dicevamo sempre passare da adesso ci siamo siamo agli albori naturalmente come si vede ma credo che ci siano veramente delle potenzialità straordinarie che nemmeno oggi noi riusciamo a immaginare grazie grazie mille Anna per il tuo intervento direi molto sostanzioso che porta di nuovo tanti temi per il dibattito parola d'ordine integrazione direi integrazione non solo integrazione informatica di software di piattaforme di app ma integrazione dei servizi questo mi sembra un tema veramente importante ingrediente base del MAS più tante altre cose quindi tu hai detto a un certo punto che dobbiamo parlare al mondo dell'auto parliamo anche al mondo degli automobilisti e quindi sentiamo Francesco Mazzone di AC Infomobilità Infomobility scusa grazie devo dire che parlare dopo la Presidente Donati davvero non solo un onore ma è anche un po' complicato perché ha praticamente oltre a lanciarmi degli assist ha reso molto più credibile quello che avrei detto io appartenendo al mondo ACI evidentemente uno dei contributi che vogliamo portare a questa discussione del MAS è proprio come parlare all'auto e a chi utilizza l'auto d'altra parte siamo anche un po' diversi rispetto a tutti gli interlocutori che si sono alternati in questa in questa discussione molto interessante questa mattina anche perché siamo un operatore diciamo diverso da quelli che abbiamo ascoltato ho molto apprezzato anche io il riferimento di Matteo Antoniola dove non lo vedo più alla diversità degli operatori no? e mi ci sono trovato molto dentro perché prima di tutto portiamo il punto di vista di chi ha sempre fatto informazione e chi ha fatto sempre erogato anche servizi di assistenza a chi si muove in qualche modo ma poi anche perché intorno al nostro mondo gravitano tutta una serie di servizi che se pensate bene rispetto al tema del modello di business potrebbero essere molto utili a trovare una via perché come si è detto e lo diceva sia il collega di Astra che il collega che il presidente di presidente Tanzilli e diciamo viviamo in un mondo in cui gli operatori coinvolti in questa vicenda sono operatori che da un punto di vista economico come dire combattono ogni giorno una battaglia dal punto di vista del conto economico non da poco specie gli operatori di trasporto pubblico collettivo pubblico che dopo la pandemia come diceva anche la presidente Donati subiscono una contrazione dei ricavi da vendita dei titoli che sicuramente li penalizza ed è qui che dal mio punto di vista dal nostro punto di vista vanno cercate nelle modalità di realizzazione di tipologie di mass che siano in grado di essere tarate su singole tipologie di clienti e di utenti non solo dal punto di vista della tipologia e della natura dello spostamento se parla del turista del pendolare del commuter eccetera ma anche dal punto di vista geografico ma poi anche in termini di possibilità di fare cross selling su tutta una serie di altri servizi che possono aiutare a trovare quella marginalità sia per i mass operator che per gli operatori del trasporto in sharing o pubblico che siano che viceversa sarebbe complicato andare a rosicchiare ora fare del business è evidente che si può fare del business in tanti modi qui parliamo di fare del business ma facendo il bene della mobilità delle nostre città anzi dei nostri territori perché poi abbiamo il caso della campagna che già dimostra di essere un ambito molto più ampio di una città e quindi fare business significa in questo ambito farlo con delle regole in cui che il pubblico impone e che sono fondamentali cioè solo il pubblico e l'abbiamo visto nell'esposizione di tutte le tre città oggi può favorire può rendere il mass come uno strumento di ottimizzazione della mobilità uno strumento per far convivere i benefici individuali di utilizzare su uno smartphone tutti i sistemi sin dalla prenotazione dal pagamento e dal viaggio solo il pubblico può favorire alcuni sistemi anziché altri può introdurre delle regole per incentivare e abbiamo visto esempi virtuosi in cui insomma si è cercato di introdurre delle modalità positive nell'utilizzo del mass e quindi il ruolo del pubblico è fondamentale anche qui con l'amico Matteo mi piacerebbe capire quando lui dice che invece diciamo gli operatori mass privati diciamo avrebbero privati dal punto di vista anche degli operatori che aggregano quindi magari anche escludendo il trasporto pubblico qual è la razza di questa valutazione perché ripeto dal mio punto di vista tutto questo ha un senso se noi riusciamo a far migliorare le condizioni di mobilità nei nostri territori e non lasciando completamente liberi perché abbiamo visto poi quello che succede lasciando alcuni operatori io purtroppo cito sempre una cosa che mi scandalizzò all'epoca ottobre 2018 nel report di Polis Macro Managing Micromobility che diceva in cui un CEO di una società di micromobilità in sharing diceva ora traducendo un po' maccheronicamente i luoghi dove non ci sono regole lì è dove noi andremo è chiaro che è passato tantissimo tempo oggi siamo per fortuna e grazie a Dio lontani anni luce da quella visione però ecco se noi immaginiamo di lasciare ai soli operatori privati senza considerare il trasporto collettivo pubblico la vera spina dorsale di tutto il sistema credo che faremmo un grosso un grosso errore lo dico credo più da trasportista che non da altro che non da uomo oaci diciamo così ritorno per un attimo al ruolo invece di direttore di società che erogano servizi nel mondo oaci e richiamo rapidissimamente perché la Presidente Donati l'ha fatto molto meglio di me il ruolo dell'auto e l'auto non può non avere un ruolo e non escludo neanche che gli insuccessi che sono stati citati questa mattina dipendano anche dal fatto che si è considerato il MAS un modo per combattere l'auto in senso assoluto in termini assoluti e non a integrarla laddove serve ora tutti conosciamo le nostre città chi vive a Roma chi vive a Milano chi vive altrove ma quando si sente parlare della città dei 15 minuti io vorrei avere una città dei 15 minuti in termini di accessibilità al trasporto collettivo pubblico cioè mi sarebbe mi sarebbe come dire molto molto sarebbe un grande grandissimo passo in avanti quindi dobbiamo favorire tutto ciò che consente specialmente nei territori più esterni rispetto ai centri abitati di accedere al sistema portante che ovviamente deve poter ricevere finanziamenti e quello che serve per crescere e quindi tutto il tema dello scambio dei parcheggi della possibilità di includere i parcheggi l'ho visto anche nella presentazione di alcuni operatori MAS anzi di integratori MAS è sicuramente qualcosa da incentivare e noi come ACI siamo interessati a giocare un ruolo su questo sia per come dicevo prima i servizi che gravitano intorno al nostro mondo pensate solo al caso delle coperture assicurative perché utilizza i mezzi in micromobilità faccio un solo caso ma in generale noi partiamo dal punto di vista di chi oggi ci chiede informazioni sulla mobilità sempre più sulla mobilità sempre meno sul traffico ormai così come i nostri servizi sono sempre più orientati alla persona e sempre meno al veicolo e quindi la nostra presenza nelle 21 città che oggi hanno i servizi di infomobilità locale luce verde la nostra presenza al CIS a supporto del MIMS che poi tutto sommato il CIS se volete è un embrione diciamo più o meno fortunato di aggregazione di fonti diverse anche se soltanto per la viabilità nazionale ci porta sicuramente ad avere un ruolo oggi ho visto l'infomobilità quasi come un momento finale probabilmente perché i punti di vista erano punti di vista dell'operatore del trasporto collettivo pubblico dell'offerta di piattaforme di tecnologie eccetera ecco noi lo vediamo dall'altra parte cioè da chi fruisce dei servizi da chi oggi ci chiede informazioni e domani potrà ottenere attraverso i nostri canali anche la possibilità di prenotare di viaggiare e di muoversi in tutta in tutta sicurezza e quindi come dire credo di aver fatto outing noi vogliamo fare il mass operator con questa visione con questa specializzazione non mi è molto chiaro se potremo partecipare ovunque a queste sperimentazioni almeno in base a quello che ho che ho insomma a cui ho assistito sicuramente a Roma e a Milano credo credo di sì però insomma lavoreremo in ogni caso a dare una mano a creare queste condizioni perché poi parliamoci chiaro il mass for Italy è il tentativo principe per trasformare il mass da una sperimentazione a un business perché attraverso quello che io chiamo repository perché è troppo difficile l'acronimo da ripetere forse è troppo banale repository ma l'accesso ai dati l'obbligo di condivisione dei dati la multiterritorialità che è un altro fattore importante sono tutti elementi che i national access point sono tutti elementi che favoriscono senza dubbio l'impresa in questo tipo di attività quindi grazie a TTS Italia per il lavoro che ha fatto anche a supporto del Mass for Italy e per l'invito che continuerà benissimo e grazie Presidente grazie anche a Olga che insomma con cui abbiamo avuto modo di condividere tante esperienze nel passato molte grazie grazie a te Francesco passerei adesso a sentire dei punti di vista che sono di stakeholder di natura un po' diversa in particolare vorrei dare la parola a Marco Ghisi che è direttore dell'ingegneria di offerta di Leonardo grazie allora per qualche minuto torniamo un pochino a vedere diciamo il Mass da un punto di vista tecnologico e da come la tecnologia può essere un fattore abilitante in questa trasformazione dalla sperimentazione al business per inciso Leonardo opera nel mondo dei trasporti da circa 20 anni e noi diciamo produciamo soluzioni per i tre pilastri principali del trasporto quindi le soluzioni per trasporto pubblico negli autobus nelle metropolitane nell'ambito ferroviario in Italia e all'estero dando soluzioni che sono a bordo delle vetture quindi l'infrastrutturazione tecnologica e sensoriale che è a bordo del mezzo e a livello centrale le applicazioni e la gestione dei dati e partiamo dalla gestione del dato prima si è detto servono servizi veri io aggiungerei servono dati veri il progetto Mass è se vogliamo un progetto di valorizzazione del dato un dato che quindi deve essere certificato deve essere un dato di qualità un dato reale deve essere disponibile in tempo reale deve essere integro deve essere un dato cyber sicuro questi tre elementi sono fondamentali perché da questa tipologia dal dato poi si determina il valore della soluzione il servizio vero quindi un dato vero aiuta a erogare servizi veri servizi che devono essere anche in un'ottica diciamo evolutiva innovativa non soltanto a supporto di una pianificazione ma a supporto di una predittività del viaggio quindi la capacità di andare a monitorare continuamente in tempo reale la situazione del traffico degli eventi degli incidenti di tutto quello che può andare a modificare la mia pianificazione per ripianificare in modalità predittiva quelli che possono essere degli adeguamenti del mio viaggio allora qui di nuovo torna anche il tema delle capacità computazionali cioè questo è un lavoro importante è l'uso dell'intelligenza artificiale applicata a moli di dati molto importanti Leonardo a Genova ha aperto un centro di supercalcolo è uno dei più grandi in Europa e ha proprio questo tipo di obiettivo rendere disponibili ai clienti ai partner di Leonardo questa capacità elaborativa per andare a utilizzare l'intelligenza artificiale nelle pianificazioni e nella predittività anche nell'ambito della mobilità aggiungo a questo e forse è un altro elemento importante che non è stato poi pienamente approfondito che il dato nasce anche a bordo del mezzo quindi noi oggi stiamo assistendo sempre nell'ottica di una rigenerazione del parco dei mezzi all'introduzione dell'elettrico oggi l'elettrico domani l'idrogeno ma non è soltanto un tema di trasformazione diciamo del mezzo è un tema di renderlo anche digitale connesso e quindi capace di raccogliere dei dati di trasmettere dei dati di comunicare con la propria infrastruttura di linea con le fermate con gli utenti di nuovo essere un generatore di informazioni queste informazioni rientrano di nuovo nel grande diciamo percorso del mass queste sono diciamo le tematiche ovviamente tecnologiche abilitative poi ci sono i temi normativi poi ci sono i temi economici e poi secondo me c'è anche la nostra capacità di cambiare il nostro stile di vita il nostro modo di spostarci e insomma il mass poi alla fine ci coinvolge penso anche a livello personale questo è la sfida per ciascuno di noi grazie 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 per finire questo giro di tavolo per poi avere ancora un pochino di spazio perché sono certa che potrà esserci un po' di dibattito vorrei lasciare la parola a Francesco Meneghetti amministratore delegato di Mindy City del gruppo team sì grazie essere ultimo ovviamente ti priva di alcuni argomenti rimedieremo la prossima volta ma devo dire che mi è abbastanza facile rimediare perché una delle cose che ho sentito dire poco e secondo me dovremmo sottolinearla di più è la relazione che è un sistema mass che è il sistema della mobilità col mondo delle smart cities questo l'ho sentito poco citare come se il mass fosse una cosa e la smart cities intesa la città intelligente un'altra cosa queste due non sono due cose disgiunte queste sono la stessa cosa e io sono qui a testimoniare per esempio il grande investimento che il gruppo team sta facendo in questo mondo io sono rappresento una società nuova del gruppo team specializzata esclusivamente nella realizzazione di piattaforme di urban intelligence che cosa vuol dire vuol dire che un grande operatore conosciuto come operatore di telecomunicazioni che sta cambiando perché oggi non è più semplicemente un operatore di telecomunicazioni è un operatore ICT a tutti gli effetti più di 3 miliardi di euro di fatturato rappresentano solo aspetti di information technology stia investendo tantissimo anche forte dei dati delle informazioni della penetrazione che un operatore di questo tipo ha all'interno delle città sta investendo tantissimo nell'aspetto delle smart cities noi rappresentiamo peraltro un'acquisizione recente del gruppo per presidiare in maniera molto forte il concetto di urban intelligence quindi che cosa vuol dire vuol dire prendere tutti quei dati che vengono generati all'interno di una città da chiunque e portati a diventare informazione e a diventare poi conoscenza bene tutto questo è un fattore abilitante mostruoso per il mass e per il successo dei mass proviamo a immaginare all'interno di una città quanti ambiti che paiono collaterali in realtà impattino sulla mobilità no? prima qualcuno citava una manifestazione un evento dei lavori in corso un incidente è ovvio ma un evento meteo e siamo purtroppo abituati e ci stanno anche dicendo che sempre più avremo eventi improvvisi e particolarmente rilevanti di tipo meteo bene tutto questo sono quelle cose che una città vive e che impattano fortemente sugli aspetti di mobilità ma così anche il contrario cioè la mobilità ha tanti effetti collaterali all'interno di una città o di un territorio la mobilità ha degli aspetti collaterali di tipo economico molto importanti ha degli aspetti sociali molto importanti prima veniva citata la città in 15 minuti noi per esempio collaboriamo con i comuni di Milano non credo ci sia più Valentino cioè l'architetto Sevino noi lavoriamo con loro lavoriamo moltissimo con la città di Milano la città di Milano è una di quelle che ha più asposato la logica della città dei 15 minuti ecco la città dei 15 minuti non ce l'hai se non hai una buona mobilità non la puoi avere ma la città dei 15 minuti non è l'esempio di una buona mobilità è l'impatto di una buona mobilità all'interno di una città cioè rendere accessibili i servizi cioè far sì inclusione sociale cioè questa è pura inclusione sociale allora sto sottolineando che cosa sto sottolineando che la relazione bidirezionale la commistione profonda che c'è tra il sistema di mobilità e una città più è intelligente la città più sa cosa sta succedendo all'interno della città più è in grado di predire ciò che la città vive in quel momento e quindi che cosa accadrà fra un po' più noi riusciamo a dare intelligenza a un sistema di mobilità integrata tant'è che noi al di là di ripeto tutte le attività spicce che facciamo con i nostri dati anche i dati del gruppo che sono voi potete immaginare un gruppo come Telecom Italia quanti dati ogni giorno accumula vi dico che noi siamo nell'ordine di qualche terabyte di dati che generiamo giornalmente su una media città metropolitana quindi già noi sappiamo tantissime cose sempre nel rispetto alla privacy se c'è il garante che mi sente tutto nel rispetto della privacy ma sappiamo tantissimo tutto questo lo mettiamo a servizio di questi sistemi di intelligenza artificiale facciamo un uso noi siamo nati con intelligenza artificiale noi dico come Mindicity e usiamo tutto questo per creare modelli per creare modelli predittivi per creare dei simulatori cioè sistemi di simulazione cioè dare la possibilità di sapere cosa può accadere all'interno di una città prevalentemente dal punto di vista mobilità ma non solo a fronte di cambiamenti cioè piccoli cambiamenti o grandi cambiamenti noi oggi stiamo per deliberare succederà fra poco un sistema che con una grande facilità e il tema facilità apro una parentesi secondo me giustamente è stato toccato ed è fondamentale ma non si ha facilità se non si ha intelligenza cioè se non la complessità va nascosta cioè la semplicità non vuol dire far finta che non esista la complessità la complessità c'è ma per arrivare alla semplicità bisogna gestire la complessità e la complessità la si gestisce solo con l'intelligenza con nient'altro quindi per arrivare a quella semplicità bisogna avere intelligenza e qui torno e chiudo il mio ragionamento che non vuole diventare un pippone che siamo in chiusura peraltro io fra poco devo anche scappare che ho un'auto ma peraltro oggi è una giornata per Roma pure difficile giusto perché parliamo di mobility ok trovare oggi un'auto è stata un'impresa infinita probabilmente l'anno prossimo non sarà più così l'assessore non c'è più ma sicuramente uno dei problemi che risolveremo col MAS di Roma sarà quello di gestire anche questi eventi però per chiudere dicevo noi che cosa vogliamo fare quindi nell'ambito del MAS giusto perché alla fine oggi parliamo di questo noi vogliamo mettere a disposizione e la nostra offerta la nostra piattaforma proprio arriva addirittura a proporre una terminologia nuova un piccolo cambiamento alla parola MAS cioè noi vogliamo proporre un iMAS cioè un MAS intelligente ma non vogliamo fare tutto nel MAS ovviamente non è la nostra noi non siamo degli operatori di mobilità non possiamo pensare di arrivare fino a quello siamo degli operatori di tecnologia però molto e quello che noi crediamo di poter fare è di fare un po' quello che tutti hanno chiesto cioè che ci sia all'interno di una città o di un territorio per me equivalgono i due termini anche se ovviamente non sono perfettamente la stessa cosa ma noi vogliamo offrire un sistema che dai dati che vengono raccolti dall'intelligenza artificiale che ci applichiamo dai modelli predittivi che noi realizziamo su tutti gli aspetti della città possano offrire in una logica di piattaforma aperta non solo dati ma vere e proprie informazioni ma non solo ma vere e proprie proiezioni di informazione perché non semplifichiamo troppo il mass il mass non è io devo andare da A a B ma è molto più complesso come tema e deve tener conto di tutte quelle cose che possono accadere all'interno della città che ripeto arrivano a volte da settori che in questo momento possiamo ritenere abbiano poco o pochissimo impatto sulla mobilità ma così non è e quindi noi come gruppo Telecom Italia vogliamo approcciare stiamo approcciando il mass proprio da questo punto di vista cioè di dire a tutti coloro che vogliono fare gli operatori a tutti coloro a tutte le città che devono secondo quanto prescritto di fatto offrire questa interoperabilità dei dati e questi dati il messaggio è cerchiamo di dare più che dati informazioni e se possibile il più intelligente in modo che i mass possano appunto come noi diciamo diventare degli i mass grazie io la ringrazio molto credo che tra gli strumenti di incentivazione della domanda oltre a quello più comunemente inteso che può essere un incentivo economico il cashback o meccanismi di questo genere la facilità di cui lei parlava prima sia veramente uno strumento di incentivazione della domanda io vorrei ripassare la parola al professor Mauro se è d'accordo perché ho visto che prendeva molti appunti quindi sono certa che abbia molte cose ancora da dirci Vito vai no molte cose ve le risparmio perché voglio dire l'ora è tarda però qualche cosa qualche cosa non mi hanno tirato per i capelli che una volta avevo quindi qualcosa lo devo anche dire scherzando eccetera innanzitutto devo dire dei sì a molte cose mi verrebbe voglia di dire di dar ragione a tutti c'è quella famosa barzelletta del rabbino che dava ragione a tutti ma mi verrebbe davvero voglia di dar ragione a tutti perché tutte le cose sono che dava ragione anche che gli diceva che non poteva dar ragione a tutti perché è impossibile se ci sono due opinioni diverse qualche piccolo divertimento Mazzone qualunque operatore Mazz abilitato in una città è accreditato sul DSRF può fare servizi Mazz sul territorio nazionale con tutti i dati che ci sono garantiti dai servizi del DSRF questo è la novità allora su questa novità che forse non vi abbiamo spiegato abbastanza bene siamo l'unico paese europeo che ha affrontato dopo le esperienze degli altri perché abbiamo approfittato delle esperienze di tutti gli altri delle cose che anche TTS Club Italia e altri hanno scritto e ci hanno documentato negli altri e abbiamo fatto questo salto nella piscina cioè abbiamo detto il ministero spende dei soldi per creare questa struttura abilitante che permetterà a tutti di farsi il loro business più intelligente o meno intelligente sfruttando i travel planner che abbiamo sentito oggi che sono in offerta che sono bellissimi eccetera perché scusa ci saranno anche offerte speciali magari perché no quindi è questo DSNRF NAP la coppia dei due questi gemelli del gol io ero tifoso del toro con Graziani e Pulici gemelli del gol NAP e DSNRF offrono questa possibilità che è una novità mondiale non stiamo scherzando stiamo cercando di fare una cosa sfruttando le esperienze passate di tutti sfruttando la collaborazione di tutti voi la collaborazione in primis delle città ma poi di tutti quelli che sono sul tavolo partenariale cerchiamo di farla bene e cerchiamo di farla in fretta perché ha ragione la dottoressa Maio i tempi sono lei dice maturissimi io dico abbastanza maturi perché ci sono molte cose da fare per arrivare ai servizi MAS e qui do ragione a tutti quelli che hanno detto i nodi di interscambio nella città il MAS è un modo di scambiare informazioni e permettere lo scambio intermodale facile dal punto di vista logico e funzionale ma ci va anche lo scambio fisico cioè quello che dicevi tu perfetto cioè dobbiamo investire di più sui nodi di scambio perché se le infrastrutture di scambio io l'ho provato stamattina sulla mia pelle rimangono quelle che sono per le persone magari di una certa età come me diventa un pochettino più difficile pensare di fare questi viaggi intermodali cioè dobbiamo generalizzare secondo tutti hanno detto e lo ripeto la digitalizzazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto italiani non è ancora oggi sufficiente per pensare a una diffusione dei massa a livello nazionale perché sì è vero bisogna potenziare i sistemi di bordo dei mezzi per il monitoraggio ma bisogna e lì ci sono soldi perché i ministeri finanziano il rinnovo del parco veicolare e nel rinnovo c'è anche la possibilità di acquistare contapasseggeri e altri strumenti che servono per il monitoraggio però è un processo anche quello senza un sistema digitale di monitoraggio delle flotte dei sistemi di trasporto eccetera i mass non funzionano ma peggio ancora senza sistemi di tarifazione integrati normati e senza sistemi di bigliettazione non cartacea possibilmente account base ed eccetera è inutile parlare di mass diffuso a livello nazionale quindi le azioni sono da fare parecchie i mass sono uno strumento che ha bisogno di tante altre cose come avete detto e ha bisogno anche di normative ma permettetemi di dire che anticipare le normative ai fatti e alle capacità normalmente non è una cosa ottima faccio un esempio che l'ingegnere Neudo conosce benissimo la normativa parliamo di dati abbiamo parlato del bisogno di normale i dati la normativa che stabilisce ed è un obbligo stabilisce l'obbligo per tutte le aziende di trasporto di linea di fornire i dati ma non solo l'obbligo generico dice anche quali sono come ci ha spiegato stamattina Fabrizio gli standard che ci sono ed è il 2017 e oggi quella roba non c'è in Italia perché oltre alle norme bisogna anche creare le infrastrutture millime che permettono poi alle norme di essere attuate cioè il nostro ministero è stato in ritardo tanto per fare un esempio per realizzare il punto d'accesso nazionale per distribuire le regole a tutti l'ingegnere Arneudo ci ha spiegato che questo processo è in atto ma non basta pensare che facciamo le norme tutto a posto le norme vanno fatte vanno corredate con le azioni che sono necessarie a cura della pubblica amministrazione centrale e locale per attuarle ed è esattamente questo che stiamo cercando di fare non vogliamo ritardare le cose vogliamo fare le cose il più in fretta possibile tant'è vero che ci siamo messi dei tempi in questo progetto PNRR che sono estremamente vincolanti la sperimentazione delle tre città pilota più le altre tre attuali che si aggregano deve terminare a fine 2023 il che vuol dire se devono avere sei mesi deve in realtà terminare a ottobre perché poi i ministeri devono fare il rapporto il che vuol dire che se diamo sei mesi di tempo per avere almeno delle sperimentazioni serie per vedere gli impatti che abbiano scuole aperte scuole chiuse periodi turistici o meno vuol dire che devono partire con tutti i sistemi congelati a marzo aprile del 2023 quindi tempi più stretti di così erano assolutamente impossibili perché bisogna le città come ci ha spiegato per esempio Milano devono fare le gare per aggiudicare i mass operator locali quindi ci sono dei tempi non comprimibili in parallelo a questo per favore continuiamo tutti insieme a scambiarci opinioni sui fatti come stiamo facendo con le città e come anche oggi abbiamo fatto su queste cose per arrivare a stabilire insieme il minimo di normative il minimo di infrastrutture che servono in parallelo non dopo nessuno pensa di rimandare alle calende greche ma per fare un bambino ci vogliono ancora nove mesi mi risulta anche se erano discorsi che facevo tempo fa quindi chiedo scusa ma voglio dire anche quindi anche in questo caso ho anche già detto che noi utilizziamo la community di che partecipa a questa sperimentazione che è una community molto larga molto ampia per verificare in vivo l'utilità di certe normative l'applicabilità di certe normative che cominciamo ad applicare da oggi come il fatto che tutti gli operatori di trasporto i dati li devono tirare fuori tutti quelli che partecipano anche non quelli di linea anche quelli dello sharing se partecipano a questa progetti pilota devono tirare fuori i dati perché altrimenti non sono ben non giocano a calcio perché non hanno le scarpe da calcio anche ACI se partecipa certamente no voglio dire quindi questo è l'ambiente che stiamo cercando di creare e devo ringraziare tutti quelli che partecipano ai gruppi di lavoro che sono partiti tempo fa a partire dalle persone dei due ministeri che stanno lavorando molto attivamente su questo e col contributo di tutti probabilmente arriviamo a costruire dei servizi mass che possono funzionare aggiungo che io non sono così convinto ai numeri che vediamo in giro è stato citato Berlino questa mattina no è un bellissimo progetto ben fatto con tutte le ipotesi secondo la citazione di stamattina che riporto a memoria il 5% degli utenti ha utilizzato quei servizi mass rispetto a tutti gli altri non è proprio un numero enorme mentre le potenzialità come dicevi tu ci sono tutte ma perché queste potenzialità si realizzano probabilmente non basta fare le cose più semplici cioè non basta guardare alla propria città al proprio territorio bisogna probabilmente coinvolgere gli operatori turistici si è parlato di alberghi tutti quelli che danno itinerari per arrivare a una destinazione possono usare se esistono queste piattaforme aperte poiché esisteranno potranno utilizzare queste per offrire tutti i servizi avanzati di booking prenotazione payment come vorranno fare quindi stiamo cercando e ripeto abbiamo bisogno del contributo di tutti c'è la volontà sia politica dei ministri sia di tutti i due ministeri che stanno lavorando e ripeto li ringrazio molto attivamente per questo di arrivare a mettere a terra una base non i servizi mass perché i servizi mass li metteranno gli operatori pubblici o privati che li devono mettere ciascuno si inventerà le cose sue per fortuna a mettere a terra quello che serve perché la più larga base possibile di servizi mass sia realizzata e abbiamo bisogno ripeto del contributo di tutti scusate se ho sparato un po' troppo hai fatto benissimo grazie grazie molte ribadiamo il concetto il mass è inclusivo il lavoro è di gruppo quindi tutti devono contribuire io ringrazio tantissimo tutti i relatori intervenuti alla tavola rotonda ringrazio tutti i presenti partecipanti alla giornata di oggi che chiudiamo con un aperitivo a cui siete tutti invitati che si svolge qui nel bar esterno dell'auditorium poi vi auguro una buona serata ci ritroviamo domani mattina seconda informazione di servizio per cortesia chi avesse dei bagagli al guardaroba è pregato di ritirarli adesso perché poi chiuderà quindi grazie a tutti e ci vediamo all'aperitivo grazie a tutti